Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Rivelate 3 nuove carte 3 nuove carte da quanto riguarda V-Jump Quindi oggi andiamo a vederle Prima di iniziare come sempre ragazzi vi invito a iscrivervi al nostro canale Prima di sempre aggiornate Ricordo che in descrizione ci aiuta tantissimo Io vi ringrazio Detto ciò partiamo Prima carta il Bombing Beast Fire Bomber Che qualità Che qualità? 2009-2004 Un mostro macchina più un mostro piro Già potenzialmente un target di super poli In realtà con tutti i mostri fuoco che girano Con Snake Eye e tutto il resto In realtà non so quanto possa essere utile Togliere roba Mandare roba al cimitero a Snake Eye Anche perché ne puoi togliere uno Però in realtà puoi sempre comunque fare Super poli e potrebbe essere interessante Poi a livello 6 ci puoi fare roba Allora vediamo Se viene evocato specialmente Possiamo distruggere tutti i mostri dell'avversario Con attacco 1900 o inferiore Può essere interessante Può essere interessante Se viene mandato al cimitero Possiamo targettare il mostro dell'avversario Con 1900 o inferiore Lo spacchiamo E se lo facciamo Facciamo danno Pari al suo attacco originale Ma in realtà non è male Non è male Se si riesce a trovare il modo di giocarlo In qualsiasi altro mazzo In qualsiasi mazzo Insomma Può essere interessante Sia come target Magari anche per un cyber drago Che verrà Perché è macchina Oppure Entra Spacca tutti i mostri dell'avversario Con 1900 o inferiore Fa anche danno Se viene mandato al cimitero No in realtà È interessante È interessante Bisogna trovare giusto il modo Di giocarlo Insomma Però Può essere una soluzione Molto interessante Questo Bombing Beast Fire Bomber Poi dipende anche dalle carte nuove Che arriveranno Magari Ci potrebbero essere Delle carte Dei mostri Che Un deck nuovo Che potrebbero Giocarlo Può essere interessante Infernity Queen Se non abbiamo carte Nella mano E questa carta è il cimitero Possiamo bandire Un mostro dark Nel graver Per targetare un mostro dark Che controlliamo E può attaccare direttamente Mi aspettavo Qualcosa di più Da inferniti Attacchi diretto Corset Fire King Un mostro fire king Attenzione Doom Burst Se controlliamo Un demo retuner Possiamo care Specialmente Questa carta Della mano Se viene guarda Specialmente Possiamo dare Un mostro scoperto Dell'op Perde 600 Di attacco Se questa carta Viene distrutta A mano Dal cimitero Possiamo dare Un mostro Dell'avversario E perde 400 Di attacco È un fire king Ma per Gagalas Ah si Ha scritto anche qua Cioè È un fire king Per il risonese Fondamentalmente Perché i demoni Tuner Sicuramente Faranno parte Di fire king A parte che Sarebbe carino Un fire king RDA Ma non credo Possano convivere Però sarebbero Molto interessanti Cioè Messo un fire king Per Gagalas Va bene L'unica Sua utilità È che Si evoca Special Forse anche Togliere 600 Di attacco Però non credo Sia Una cosa Molto primaria Quindi fondamentalmente Le carte La carta utile È il mostro fusione Ah ecco le cose Le carte Il fumetto Burning Non so che cosa Infernity queen Mamma mia Vabbè alla fine È fondamentalmente L'unica carta forte Che può essere utilizzata In qualche modo È lui Il bombing Ma vediamo Insomma Vediamo come potrebbe Essere sfruttato Perché Del potenziale Per lui c'è Del potenziale Per lui c'è Per le altre carte No magari L'avocazione speciale Del Doomfire King Bursley Può essere interessante Però Nulla di che Detto questo ragazzi Fatemi sapere cosa Pensate Ovviamente Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti